San Valentino è ormai alle porte e se ancora non avete fatto il regalo alla vostra dolce metà perché siete di quelle persone che lo fanno all'ultimo, non preoccupatevi abbiamo selezionato per voi 5 regali tech da poter regalare alla propria dolce metà il 14 febbraio sono i del regalo per tutte le tasche e le vediamo subito dopo la sigla ciao amici di tech con android io sono Stefano e come ho detto poco fa oggi vedremo 5 idee regalo tech per San Valentino iniziamo dalla prima che mi è venuta in mente guardando proprio una coppia di amici qui all'Aquila spesso la sera dopo una giornata intera di lavoro o di studio c'è voglia di rilassarsi e quale miglior metodo se non mettersi a giocare alla Nintendo Switch questi miei amici passano davvero tanto tempo a fare dei giochi anche in coppia sulla Nintendo Switch sicuramente la Switch standard o la nuova Switch OLED è la formula migliore per poter giocare anche in coppia collegandola a uno schermo e poi dividendosi i controller ma va tantissimo anche la Nintendo Switch Lite anzi è sempre andata fortissima questa piccola console perché è molto più leggera e tascabile e si può giocare praticamente ovunque la Nintendo Switch Lite la potete trovare in diverse colorazioni come corallo, blu, giallo, grigio oppure turchese su Amazon ha un prezzo in media intorno ai 220 euro ma spesso si può trovare con offerte anche a 200 o 190 euro quindi se spesso vedete stressato il vostro partner la Nintendo Switch Lite potrebbe essere un ottimo regalo che fa proprio al vostro caso e poi quando vi fa arrabbiare potete mettere in punizione la vostra dolce metà semplicemente sequestrandogli alla Nintendo Switch Lite e potrete giocarci voi stessi andiamo avanti adesso invece parlando del secondo gadget tech quante volte vi è capitato di voler immortalare un momento col vostro fidanzato o fidanzata? per questo scopo c'è la Fujifilm Instax Mini 9 ovvero una macchinetta fotografica istantanea sì è vero oggigiorno gli smartphone consentono di scattare foto davvero belle e in più sicuramente non ce li dimentichiamo mai ma quanto è bella quella sensazione che si ha mentre si aspetta che la foto venga sviluppata aspettate lì per vedere come è uscita la foto perché comunque sapete che sarà uno scatto unico secondo me è una sensazione unica che il telefonino non può ridare perché sapete che quell'istante non lo potete cancellare e anche se la fotografia risulterà un po' bruciata oppure sfocata non vi interesserà perché sapete che è quello un pezzo unico della vostra storia la Fujifilm Instax Mini 9 la potete trovare su Amazon a un prezzo di circa 80 euro anche qua spesso ci sono delle promozioni che la portano a un 15-20% in meno e in più la potete trovare davvero in tantissime colorazioni come viola, rosa, giallo, blu, verde, turchese, rosso e ancora altre e inoltre realizzare un album fotografico con tutte le istantanee che avete scattato sarà davvero semplice e anche divertente andiamo avanti con il terzo dispositivo tech probabilmente è la smart band più conosciuta e venduta stiamo parlando della Xiaomi Mi Band 6 sicuramente grazie a questa smart band la vostra dolce metà saprà in ogni istante anche sotto la doccia quando voi la contatterete sia via messaggio che in chiamata quindi non ci sono più scuse per dire che non avevano letto il vostro messaggio ma scherzi a parte è un dispositivo comodissimo che non costa neanche tanto infatti su Amazon possiamo trovare la versione NFC a circa 55 euro di media ma pure questo device essendo molto venduto appunto è spesso soggetto a degli sconti da parte del grande e-commerce inoltre è comodo anche perché si sia un'anima sportiva questa Xiaomi Mi Band 6 registrerà tutti i vostri parametri durante l'allenamento e inoltre per poter dare ancora più scelta di personalizzazione al vostro partner potete regalargli il set di 20 cinturini colorati Ivolair al prezzo di 11 euro infatti questo kit contiene 20 colorazioni diverse di cinturini che sono perfettamente compatibili con la Xiaomi Mi Band 6 non potevamo non includere come gadget tech all'interno della nostra top 5 l'assistente vocale di casa Amazon ovvero Alexa se ancora voi o la vostra dolce metà non ha questo dispositivo a casa credetemi sarà un regalo magari non apprezzato subito ma una volta che si prenderà confidenza con questo device diventerà quasi indispensabile e sarà molto comodo averlo a casa per potersi gestire le sveglie, per poter chiedere informazioni sul medio sì, tutte cose che possiamo fare tranquillamente anche da soli ma dai, siamo nel 2022 e farci coccolare un po' di più della tecnologia non fa assolutamente male comunque essendo appunto Alexa un dispositivo di casa Amazon possiamo trovare sia la versione Echo Dot 3 che la più recente Echo Dot 4 con prezzi che vanno dai 30 ai 60 euro anche qua ovviamente in base poi alle scontistiche e alle promozioni che la piattaforma fa costantemente sul proprio sito va bene, facciamo qualche piccolo passo indietro facciamo finta che sapete già che la Instax Mini non fa per voi e che il vostro partner è talmente fissato quando si fa le foto che deve farne tante, ma davvero tante prima di trovare l'angolatura perfetta per il suo profilo migliore beh, in questo caso sì, in effetti la macchinetta istantanea non credo possa fare al vostro caso perché spendereste una fortuna per tutte le foto però in questo caso sicuramente vi servirà lo smartphone ma fare tante foto significa anche consumare tanta batteria ed ecco qui che arriviamo al quinto gadget tech ovvero il power bank Anker da 20.000 mAh noi qua ne abbiamo una versione da combattimento noi utilizziamo tantissimo questi power bank proprio per la nostra attrezzatura quando andiamo in giro è un dispositivo robusto, molto bello anche il design quest'ultima versione la potete trovare sul sito di Amazon sia nera che bianca e alla superficie ruvida quindi per un grip migliore ha un prezzo di circa 35 euro anche questo è soggetto spesso a promozioni ha davvero tanta capacità potete ricaricare fino a due dispositivi alla volta e quindi questo vi consente di stare tranquilli sia con il vostro smartphone che con quello della vostra dolce metà qui finalmente potrete fare tutte le foto necessarie finché il vostro partner non sarà finalmente soddisfatto del risultato questo dispositivo si vi può salvare in più di qualche situazione non solo per quanto riguarda lo smartphone ma per poter ricaricare qualsiasi device lontano da casa potrete sempre accontentare la vostra dolce metà bene ragazzi quindi se ancora non avete fatto il regalo al vostro fidanzato o alla vostra fidanzata sbrigatevi perché manca veramente pochissimo e qui sotto in descrizione potete trovare i link a tutti i prodotti che abbiamo appena visto e inoltre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video di Tech con Android ci vediamo con il prossimo video